Verbagna investe sulla mobilità sostenibile, finalmente mancano gli ultimi dettagli e poi ci saranno delle nuove colonnine elettriche in città. Non possiamo stare indietro, oramai il turismo punta verso queste situazioni, perciò colonnine elettriche sia per macchina che per bicicletta invaderanno la nostra città nella prossima primavera estate. Non solo a Pallanza ma anche a Intra. Assolutamente, Intra, Pallanza, Trobaso, Fondotoce e la nuova stazione, perché comunque è giusto dare un servizio su tutta la fascia di lago, non solo di lago ma anche all'interno della nostra città, perché comunque ci sono anche i nostri cittadini che sicuramente investeranno prossimamente nelle biciclette elettriche ma anche nelle auto. Voi state pensando anche a un sistema di sharing però? Certo, perché comunque arriva la pista ciclabile e non si può abbandonarla lì così, perciò dobbiamo incentivare a vivere sia i turisti ma i cittadini la nostra nuova pista ciclabile, come? Con lo sharing, cioè con le biciclette elettriche a noleggio. Saranno posizionate cinque postazioni proprio su tutta la dorsale del lago e la stazione. Ecco, questa colonnina non è ancora finita ma la prossima settimana lo sarà? Sì, sono state posizionate le prime tre al maggiore davanti alla caserma i carabinieri e questa in largo tonolli. Lunedì posizioneranno proprio, hanno preparato tutti gli scavi, tutti i fili, gli allacciamenti. Lunedì, tra lunedì e martedì posizioneranno proprio la figura, la classica colonnina, qui in questo punto da 22 kilowatt e anche dai carabinieri invece 50 kilowatt presso il piazzale Dante, cioè il piazzale del nostro teatro. Mobilità elettrica anche sul lago. Ad aprile infatti sarà posizionato il nuovo pontile a Intra con una colonnina elettrica e da maggio a Fondotoce sarà attiva una barca elettrica per escursioni nella riserva naturale.